Censura per Alberto Cisterna, l'ex numero 2 della direzione nazionale antimafia, avrebbe violato le norme che disciplinano le attività e l'organizzazione dell'ufficio, per non aver tempestivamente informato il suo diretto superiore, ovvero l'allora capo della superprocura Piero Grasso, oggi presidente del Senato, dei contatti telefonici mantenuti per diversi anni con Luciano lo giudice, unitamente al fratello Nino, detto il nano, ritenuto al vertice dell'omonima Cosca Regina. Così ha stabilito la commissione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Il procedimento era prodato a Palazzo dei Marescialli in seguito al processo penale istruito a carico di Cisterna, che era stato accusato da Nino lo giudice, divenuto poi collaboratore di giustizia, di aver preso soldi da Luciano per favorire la scarcerazione di un altro fratello, ovvero Maurizio. Secondo l'accusa, da cui Cisterna è stato in seguito prosciolto e che lo stesso capo mafia pentito ha poi ritrattato, la sezione disciplinare del CSN tre anni fa trasferì il magistrato della DNA al Tribunale di Tivoli, un provvedimento che la commissione disciplinare del CSN ha confermato oggi accogliendo la richiesta della Procura Generale e combinando al contempo la sanzione della censura. Il difensore di Cisterna, il PM della DNA, Antonio Patrono, aveva chiesto invece il proscioglimento ritenendo l'incolpazione priva di fondamento per non avere il suo assistito, ovvero Alberto Cisterna, commesso alcun illecito.